E' bello il carattere del Bravissimo, è partito Ruspante al semafero e c'è il carattere perché io ho tenuto un po' che eccolo e questa casa c'è la macchinetta, era imprevista per lui, io gli potrei entrare un po' a destra e poi chiudere ma non lo faccio per il macchinettista perché è bello il carattere del Bravissimo, lui l'ha acquistato è il colore del lancio, in pubblicità mamma fia te l'ha fatto uscire Bordeaux e il colore dell'anno è l'inventibile, dai 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 bravissimo, dai eccolo ora mi frena perché lui è l'ingio, è verde e green, mi fa tappo sullo macchinista, mi fa tappo sul pischiello fresca a destra, è il Bravissimo, sbattimelo dentro, adesso fa il calmo, è fatto il fenomeno fino a poco fa adesso è il Bravissimo, perché lui ha fatto vedere che forse sta scrivendo adesso la sua signora perché c'è stata tanto a pagare e gli ho dato l'opportunità di stare avanti e secondo te sto male, ognuno deve avere un momento di gloria e se sei bravissimo, sei bravissimo, nella vita, tutta la vita bella è te, ora basta però, bravo, eh sì bravo, eh, e andiamo c'è tappo, potresti anche attaccarmi a destra, frustra c'è sempre il macchinista micro, mi fa, mi sta salvando dalla brutta figura per funzione al microcar grazie